Salve a tutti e benvenuti in un nuovo video. Oggi saremo in compagnia, non solo della mascherina ovviamente, e andremo ad effettuare insieme il tagliando a una Panda 1003 Multijet del 2014. Quindi andremo a sostituire l'olio e i vari filtri. Più nel dettaglio abbiamo un Castrol Magnatec 530 C2, specifiche Fiat. Poi un filtro Bosch dell'abitacolo, filtro carburante Japan Parts, filtro dell'olio Bosch e infine il filtro dell'aria. Sistemiamo adesso un po' qui l'auto, successivamente procederemo con lo smontaggio. Grazie a tutti. 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 Vi ricordo di iscrivervi al canale.